Grazie a Daniele e ai suoi amici che sono venuti qua a suonare stasera per noi. Sì, è Daniele e noi siamo i suoi amici. Sì, bravissima. C'è Ilario e Antonia, e Ludovica. Marta. Ah, Marta, ok. E poi c'è il picchio. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti